Andiamo avanti! Bene, ma adesso si deve potessi pure contare perchè mi toccherà fare un gioco con una corda che tu non hai Assistente! Sente Vedo che tu non guardi con molta attenzione l'assistente Assistente! Allora La corda La corda Ecco Verde Taglia Accurali Tag Ehm Volevo dare? No No Ok Volevo dare e la mano molto delicatamente questo magico 1, 2 1, 2 e grazie grazie